Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Ieri sera su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini, che ha visto Enzo Paolo Turchi come protagonista assoluto. Dopo aver parlato del suo passato difficile, Enzo Paolo ha manifestato la volontà di uscire dalla casa per tornare dalla figlia Maria. A quel punto Signorini ha fatto entrare in casa la moglie Carmen Russo per convincerlo a restare. La fredda accoglienza di Enzo Paolo ha sorpreso tutti, compreso il presentatore, e durante un confessionale ha rivelato dettagli inaspettati sul suo rapporto con la moglie. Gli autori del Grande Fratello hanno invitato Carmen Russo a rimanere con Enzo Paolo per qualche giorno per cercare di convincerlo a restare. Tuttavia Enzo Paolo ha accettato la presenza della moglie con freddezza, rivelando di avere dei dubbi sul loro rapporto. Nonostante le voci di crisi che circolavano già da mesi, Enzo Paolo ha chiarito che non ci sono ipotesi di tradimento. Dopo aver parlato con i compagni e la moglie, Enzo Paolo ha deciso di rimanere nella casa del Grande Fratello per qualche giorno in più per riflettere sulla sua decisione. Tuttavia la sua forte volontà di tornare dalla figlia Maria suggerisce che potrebbe decidere di lasciare la casa presto. Per scoprire cosa succederà non resta che continuare a seguire.